salve da grobalati questa è una particina del raccolto dei fagioli barlotto quest'anno per dire la verità alcune cose vanno male alcune cose vanno meno bene ma i fagioli stanno andando benissimo speriamo anche i pomodori e le melanzane possono fare la stessa cosa tra qualche giorno ci sarà anche la raccolta delle cipolle e delle patate vedete sono ovviamente molto interessanti io di solito questi qua ne faccio una bella parte che poi metto in congelatore quindi si apprestano poi per essere anche cucinate durante durante l'inverno specialmente con la pignata quindi facciamo le provviste adesso che è importante di roba ovviamente di tipo biologica 100% considerate che un chilo di questa roba qua costa me anche 4 euro a chilo quindi tra i 3 e 4 euro a chilo perché il problema è la raccolta perché quando si raccolta bisogna fare a 1 a 1 fare attenzione quindi anche se per quanto riguarda le ciliegie anche questa roba qua più che altro la raccolta che fa lievitare il prezzo beh come si dice l'orto da anche delle soddisfazioni l'unica cosa che possiamo fare quello di non pensare le cose che non vanno bene perché se cominciamo a vedere quel dobbiamo accettare sempre la giornata netto di quello che ci può offrire noi facciamo il massimo che possiamo poi se tutte le cose vuoi per calamità vuoi per siccità vuoi per malattie varie non riusciamo a portarla avanti al 100 per cento la filosofia è quella di fregarcene tanto le nostre provviste sono di tipo personale e quindi sono che non si turisti ci facciamo passare lo stesso grazie all'attenzione da amiche l'ex perché sono i barlotto si potevano anche lasciare un altro po però come la vedete voi via un po come sono venuti perché poi quando diventano troppo duri non mi vanno bene per fare alcuni cucinati ci vuole troppo tempo in questo modo potrebbero anche adesso io voglio un pochettino scolare qua si vedete non ce la faccia farlo vedere sappiamo una vediamo come sono messi sono tutti integri senza malattie io non ho messo nessuna medicina ma solamente cose naturali vedete fagioli veramente molto molto saporita beh soddisfazione nelle macchie delle coserie reso l'attenzione da michele expert